Riallacciare i rapporti con provincia e regione, avere dei riferimenti concreti in Parlamento e nei ministeri romani, una necessità non più rimandabile dopo l'isolamento in cui la città è precipitata con l'ultima amministrazione Canninto, spiega Rosa Tuputi, candidata al Consiglio Comunale nella lista con Barletta. Bisogna ricostruire una rete di buone relazioni, in calza l'ex assessore che si dimostri all'altezza di una città dell'importanza di Barletta. Vanno recuperati i rapporti con l'intera provincia perché noi non dobbiamo dimenticare che Barletta non è una città a sé stante, Barletta non è titolare di niente, Barletta ha bisogno di interfacciarsi, di collaborare, di creare una rete con la provincia perché noi non siamo una provincia grandissima, quindi abbiamo bisogno comunque di creare le nostre infrastrutture, le nostre strutture, i nostri uffici pubblici e di collaborare con tutte le città della nostra provincia, a maggior ragione con la regione che deve essere il polmone perché tutto questo avvenga. E se creiamo delle discrepanze con la regione è chiaro che non potremo, o sarà più faticoso, realizzare tutto quello che abbiamo in programma. L'obiettivo è mettersi subito al lavoro all'indomani delle elezioni. Con il sindaco Santa Scommegna conclude Tuputi, potenzieremo la macchina amministrativa, sbloccheremo i cantieri ancora fermi e procederemo all'adozione del piano urbanistico generale. Sicuramente una volta potenziata la macchina amministrativa potremo poi terminare quelli che sono i grandi, purtroppo, progetti in corso che rimangono ancora incompleti, quindi cercare, seppur non direttamente per responsabilità del comune di Barletta, ma cercare di spingere sull'acceleratore, di andare a scomodare chi dobbiamo scomodare per fare in modo che questi progetti vadano avanti e vengano terminati nel più breve tempo possibile per consentire a tutta quella parte della cittadinanza che in questo momento sta soffrendo a causa di queste infrastrutture lasciate, diciamo, incompiute, per cercare di dare delle risposte immediate e poi sicuramente mettere mani a tutto quello che riguarda il nostro programma, cominciando dall'ambiente, affrontando questo grande tema, la mobilità, la conclusione finalmente del Pug affrontandolo, partecipando con la cittadinanza e cercando di creare quella che è l'idea di città che noi vogliamo per i prossimi vent'anni realizzare a Barletta.